Grazie a tutti. Il primo classificato è Paolo Ueventi, consiglio di prendere il presidente della classe dell'estate 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 dell'estate. Il primo classificato è il regalo più grande che si potesse fare. Poi sapete quando noi in televisione vediamo città di Alessandria per lo sport, sempre dietro dei giocatori e quando lo vedono tutti gli alessandrini probabilmente c'è qualche elemento, qualche passione in più che scatta.